C'è chi in città ne ha acquistate 30 in un giorno solo, altri che le ricercano spasmodicamente sul web. Stiamo parlando della mascherina per proteggersi dal Covid-19. Le più ricercate sono quelle antipolvere ed antismog, in grado di filtrare particelle più piccole. Ma sono troppe le speculazioni delle ultime ore. Online i prezzi di questi prodotti hanno subito i rincari del 650%. C'è stata molta richiesta. La mascherina non sempre è necessaria. Nel senso che in realtà la mascherina protegge gli altri dal contagio, non se stessi. Faccio un esempio. Il chirurgo quando opera non difende se stesso, ma difende il paziente che opera. Ecco, questo virus si trasmette attraverso la saliva, quindi tosse, starnuti, per cui occorre che la persona che eventualmente dovesse contagiare si trova a una distanza, inferiore ai due metri, quindi a contatto con l'altra persona, oppure, starnutendo, tossendo, mette la mano davanti alla bocca. Quindi il virus temporaneamente si deposita nella mano, dando la mano, toccando, abbracciando e via dicendo, si può in questo caso trasmettere. Pertanto io ritengo che la mascherina non sempre è utile. Certamente non è utile nelle zone che non sono dichiarate a rischio. E, peraltro, in alcune situazioni si sono verificate anche delle speculazioni, ossia prodotti venduti ad un prezzo superiore al valore di mercato. Per questa ragione, personalmente, ho deciso, quando mi sono state proposte articoli di questo genere, di non ordinarli proprio, perché è una cosa veramente terribile e odiosa, speculare sulle necessità della gente, a volte anche sulle credenze della gente. Devo anche dire che, da questo punto di vista, le farmacie sono state un presidio, assolutamente al servizio delle comunità. L'OMS raccomanda di indossare la mascherina solo se si sospetta di avere contratto il virus, avendo dei sintomi, tosse o starnuti, o se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da Covid-19. Inoltre, puntualizza il sito del Ministero della Salute, la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.